Intanto io devo ringraziare tutti i cittadini che ci stanno dando una mano d'aiuto, differenziando e rispettando le regole. Bageria sino al 7 novembre era una città assolutamente pulita, che aveva fatto tanti passi in avanti sulla raccolta differenziata. Il mese di ottobre l'abbiamo chiuso col 52%. Purtroppo per una mancanza e scarsa programmazione da parte della Regione, dato che la Regione che ci indica dove andare a scaricare l'indifferenziato, dal 7 novembre siamo rimasti con la discarica chiusa per più di 20 giorni, tranne un breve momento con un conferimento straordinario. Quindi la città si è riempita di cumuli di indifferenziata, lasciata lì da parte di chi non differenzia correttamente. Nonostante questo, un paio di giorni fa abbiamo ricevuto un decreto per conferire poche tonnellate rispetto alla città e piano piano si sta ripulendo la città. Ma il problema vero è che noi abbiamo ricevuto un danno all'immagine della nostra città da parte della Regione, che io ho diffidato formalmente mandando una nota, poiché noi siamo una città che si è riscattata, che sta puntando molto sul turismo, sulla gastronomia, sulle materie prime. Proprio da poco abbiamo inaugurato il mercato ortofrutticolo, che è l'unico mercato totalmente al coperto della Sicilia occidentale, secondo soltanto a quello di Catania. La Regione ci ha gettato nel baratro non soltanto a Bagheria, ma 39 comuni e soprattutto i comuni del distretto. L'altro ieri, insieme al sindaco di Ficarazzi, Paola Martolana, siamo andati lì convinti anche di incatenarci alla Regione e ci hanno assicurato che in queste ore dovrebbe arrivare un decreto per un conferimento straordinario, che ci dà la possibilità di ripulire la città e di vivere come abbiamo vissuto fino al 7 novembre, grazie allo sforzo degli operatori, dei cittadini, del Presidente dell'AMB e di tutti noi. Con l'occasione dico che abbiamo intensificato i controlli, tante che stanno aumentando i verbali, perché abbiamo intensificato le telecamere e c'è tanta gente che sta collaborando. Grazie a tutti.